Ciao a tutti, sono Polli e oggi otteniamo un Marshadow, come cavolo si pronuncia? Allora, vi chiudiamo. Tramite codice serialo password. Intanto le istruzioni sono qua sopra. Dice riscattabile fino al 26 febbraio. C'è il 23 febbraio, beh, noi l'abbiamo preso oggi 25 ottobre. Adesso qui inseriremo il nostro codice. Ok, abbiamo scritto il codice e spero che non sia passata la mano di mio fratello. Non provate con questo codice perché non funziona, è singolo. Dovete andare da GameStop per richiedere questo codice. E ho provato da OpenGames ma non ce l'avevano. Adesso non so se il mio negozio qui vicino c'era ma credo che la catena di OpenGames non partecipi a questo evento. Invece nella catena di GameStop sì. Ok, è grigio perché non si capisce mai se quella specie di cappello è verde o grigio. Adesso c'è qui mio fratello che vorrebbe dire qualcosa sul suo canale. Ciao ragazzi, lasciate dal mio canale PietroSuperGames. Parla normalmente a taglio. Pietro Super attaccato, Games staccato perché altrimenti vi trova un youtuber arabo, capito? Grazie per essere stato regista nel mio video di Pokémon. Ma comunque a proposito di video di Pokémon... Ma è vero eh? A proposito di video di Pokémon qui, a novembre su questo canale farò la guida di Pokémon... Beh, dillo. Ultrasole. So che sarebbe stato più logico fare Ultraluna, perché io ho preso Luna, ma non mi piaceva molto il fatto di, non so, avere la notte di giorno. Poi in caso di Pokémon esclusivi o per la versione di Luna o di Sole, posso averli. Basta scambiare la scheda dall'altro schedina. Tanto inizio ne abbiamo due. Sì, l'avevo già completato un po' di tempo fa. Vediamo le sue info. Ah, ecco. Ecco qui le statistiche di Marshadow, che ha l'abilità tecnico, che potenzia le mosse più debili del Pokémon. Beh, detto questo, ci vediamo nei prossimi video. Dopo aver ricevuto il vostro Marshadow, vi ricordo di salvare il gioco. Detto questo, ci vediamo nel prossimo video. Iscrivetevi al canale per avere poi anche la guida di Pokémon Ultrasole. Ciao, ciao!